Non abbiamo parlato di lavoro, poi ci vediamo oggi pomeriggio che abbiamo un incontro importante sulle università, io sono come ho detto anche pubblicamente un fautore convinto del dialogo istituzionale, poi le differenze politiche sono l'infa democratica, guai se fossimo tutti uguali nei contenuti, nei metodi, nei toni e nei comportamenti, De Luca è il Presidente della Regione, io sono il Sindaco di Napoli e dobbiamo dialogare.